Siamo arrivati a ottobre! Ottobre! Non ci siamo mai fermati sotto il sole a 40 gradi. Abbiamo fatto alcuni interventi, manifestazioni, documenti scritti e in questi mesi abbiamo dato un messaggio di consenso e di civiltà. Ma nonostante questo siamo stati accreditati verbalmente e per iscritto dai giornali. Ma alla supperenza di chi ha preteso di convincerci, magari provando a metterci in cattiva luce all'interno degli italiani, abbiamo risposto con altrettanto consenso e evidenziamo tutte le criticità del progetto. Che dimostrano l'impossibilità! Noi castelli di carta su cui si basa questo progetto stanno cominciando a cadere. Allo tempo che i biondinesi andrebbero tagliato il gas, che andrebbero a militare in giro di verdogna! Noi non ecco che siamo egoisti, che attenziamo alla sicurezza nazionale, che siamo diventati pagani, ma che vergogna buffoni!